Siamo a Villarosa, il paese delle miniere, di fronte a Palazzo Notarbartolo, il settecentesco palazzo che Giuseppe Nicoletti ha acquistato per restaurarlo e restituirlo a Nuova Luce. In occasione hanno detto il primo simposio di scultura che vedremo ha partorito tre meravigliose sculture che saranno ospiti di questo palazzo. Susanne Pauker e Susanna per l'Italia, dalla Germania direttamente a Villarosa, cosa è venuto fuori dal blocco di marmo? Ecco, io ho pensato di fare una danzatrice tipica della Spagna, di flamenco, con tutto il suo corpo, del movimento, si muove anche il vestito. Ho giocato con diverse finiture, con i capelli lasciati greggi, così si apprezza anche questo materiale. Altre parti sono lisciati bene e ci siamo divertiti. Gregor Vekiril, il giovanissimo 35enne dall'Estonia a Villarosa, cosa ha rappresentato in questo meraviglioso blocco di marmo di Villarosa? Cosa ha rappresentato il tuo lavoro? Io faccio una uova spagnola in una vestita classica del 19th century. Ha questa mantiglia e tutte le parti di questa vestita classica per la spagnola. Allora, dice che ha rappresentato una donna del Novecento con il tradizionale costume di questo tempo, con quel cappellino a mantiglia e ha provato di inserire appunto anche qualche ornati che rappresentano... Mario Tapia, ai piedi della sontuosa scultura dei 3 metri, cosa abbiamo realizzato? Una nuova nicchia? Una nuova dea del vento, lo chiediamo così, non so nemmeno dire il nome. Come hai lavorato, con quali strumenti hai lavorato? Qui abbiamo usato martelletto, frulini, qualche disco e un po' a mano, un po' di tutto. Tu vieni dall'Equador però abiti a Carrara, quindi lunga esperienza nel settore della pietra, del marmo. Amiamo troppo. Qual è la differenza tra la pietra di Villarosa, la pietra dell'Addea e il marmo di Casale? La differenza di questa è che questa polvera è incredibile, vola lontano, vola facilmente, però è morbidina, facile da lavorare, un po' abrasiva, però facile da lavorare, con le scalpelle sulla coronata. Cosa ti piace dell'Italia, Mario? Mi piace... E della Sicilia? Sì, e il cibo. Il cibo. E il cibo. I quattro volti della scultura di Mario Termini, maestro indiscusso della scultura dell'Ellese, il panorama non solo siciliano ma nazionale e anche oltre. Diciamo che è un'opera nata da un blocco informe, perché l'ho trovato qua, me l'hanno mandato, ho visto lavorare loro e, come ti avevo detto, non farò niente. Come ti avevo detto, non farò niente. E tu mi hai detto, no, non è vero, non ci credo. In realtà, mi sono messo a lavorare perché ho abbracciato la pietra e ho visto qualcosa. che poi piano piano è nata. La prima immagine che è nata è sotto il volto principale, che è questo volto molto grande, che inizia a nascere e poi continua con questa immagine quasi con Italia, che è sempre l'essere umano, che continua ancora a legarsi con un'altra figura maschile e un'altra figura ancora sulla sinistra, e poi ancora girando c'è un'altra immagine. Le mie sono sempre delle sculture che bisogna scoprire. Ci accomodiamo così nel frattempo scegliamo quello che è lo spazio che sarà destinato ad ospitare le tre sculture a cui gli artisti praticamente lavorano già dal primo maggio. Il simbolso si concluderà oggi e ha dato vita a queste tre meravigliose sculture che verranno collocate praticamente in questo salone centrale, ancora da decidere come.